Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi lunedì 6 gennaio Cielo parzialmente sereno su Messina e la sua provincia Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi I venti soffieranno con intensità media da sud-est durante la mattinata Da nord-est nel pomeriggio I mari mosso lo ionio agitato il terreno Domani martedì 7 gennaio Cielo sereno su Messina e la sua provincia Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi I venti soffieranno moderati con direzione variabile Ma tendenzialmente da nord-ovest su Messina I mari agitato il terreno mosso lo ionio I vengono a un luogo I venti soffieranno tra i 10 e i 15 gradi soffieranno tra i 10 e i 15 gradi soffieranno in Messina Grazie a tutti. Grazie a tutti.